Buongiorno, buongiorno. Ma signora, allora stavi a prendere una bella pinnola, una pinnola dell'infermiere? No, signora Natascia, io pinnola non ne prendo, perché abituarsi è facile, sbetuarsi è difficile. Come sta lei, signorina? Come sta il fargoletto? Eravamo sui nomi, eravamo sui nomi. Forse Alice. Sì, ma cosa facciamo? Facciamo di prendere una signora Natascia. Alice non ci piace per lei, signora Natascia. Nel paese delle meraviglie. Lei che nome dice? Io... Amore, amore! Amore, Lucrezia, come ti dite la novella? Che figlio, Lucrezia! Mi nome è Tascia, non ne capite niente. Allora, che cosa stai dicendo? Comunque qua i medici come la trattano signora, la prendono in giro, la trattano bene, come stanno le cose? Cosa che a me è venuto il secondario e mi sono... Secondario? Cosa è compagno? Chi tu che venerò pure il primario, no? Il secondario. Ah, l'assistente! Ah, allora c'è pure lei. L'assistente? Cioè chi lo vede qua, 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 chi lo vuole dire? Chi tu, chi tu, no? Chi tu, no? Chi tu? Chi tu che vennerò io? Chi li aprò, non c'erano il latte, no? Shíamos, ma era! Ma come hai fatto in questo lato? Come hai fatto? E mi hanno detto i medici che non c'è bisogno di niente. Non si preoccupi. Puliamo il pavimento e costriciamo. Non c'è problema. Sersicano. Ha capito? Cioè, praticamente, sersicano le tettine. Le nennine. Ti stringono per terra. E quindi devono pulire il pavimento con le tettine. No, loro dicono che puliamo il pavimento. Non c'è problema. Non c'è problema. No, non lo capisci tutto. Vado a fare pulire la terra con le nennine. Vaci, vaci. Quest'onte sa da lavare col latte. Vaci, vestiti, vaci. Mamma mia. Certo questi medici però... ...como proprio dei mascalzoni. E' ora che viene l'estate, signora, dei mascalzoncini. Che spirito, cosa? Ci volano di che spirito però. E' ancora? Ma ancora ci ne sa? Ma ancora? Mi sento ancora a correre, che è una bellezza. Eh, va bello. E' bello. Che cosa? Allora... Ma questa figlia la città? Ancora. 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 Ma verticchio. Ma, signora, è una simpatizione troppo simpatica. Ma che mi sento? Spiritosa e speritosa. Ma che mi sento? Non è! Ma questa cosa, signora. Ma verticchio, che sta facendo? Sto prendendo tempo. Sto prendendo tempo. Sto prendendo tempo. Sto chiamando verticchio. Direi. Verticchio! Verticchio! Ma sennò ci spacciono tanto. E smaniamo buona a tutti, eh. Ma proprio... Ma rottuata che pare, è vero? Che è peggio. Ma noi cosa è giusto. Ha cominciato a picchiare tempo, ora... Ma se si staggare, è vero? E sbompiamo precisi. Poi... E io non dirò la morte. Che gli hai detto? Che gli hai detto? Ci ho detto... Un momento dopo, ragazzi. Praticamente ci ho detto... Che cosa gli avevi detto a mia moglie? Che gli strichano per terra le tettine. Mi fa... Cipicchi chi è? Mi fa... Anzi, questo è niente. Noi avevo quindici mesi... che gli strichano per una terra... per commettere questo mucchiere. Mi hanno detto. Noi... Ma non dici... Ma... avevi mesi vinto un anno... Ma allora che cosa... ci ha visto qui a Montel. Bastante... Ma lì è che... Sobastante! Ma non lo capite? Ma non lo succede? Andiamo! Ma dove andiamo? Ma che vede per di... Quei vede per di... Ma che vede per di... Che vede per... Ma c'è... Ma che stai coprendo la maglia? Ma non lo faccio? Ma chi rende la maglia? Ma io spindivo caro, c'è un mazzo di carte. Ma con le carte? Sì, giochiamo un pochetto. E venite qua, e venite subito. Giochiamo a poker. Prego Zazzà, prego. Giochiamo a poker, giochiamo a poker. Finito il caso. L'ultima settelita. Ancora continuo. Ma vedi, chi vuoi? Allora, giochiamo a poker. A poker. Allora, facciamo... Taglia, taglia. No, io batto. C'è un pochetto. Va bene così. Giochiamo a poker. 5 carte l'uno. 5 carte tu. 5 carte tu. Se mi danno 5. E 5 carte tu. Ecco qua. E 5 carte io. 3, 4 e 5. Queste possiamole, possiamole. Benissimo. Allora, guardatevi le carte ognuno che è. Mamma, mamma, prendiamo un asso. Un asso. Pitch! Ecco qua. Pitch! Che pitch, che pitch? Che cosa fai? Che cos'è? È servito o non è servito? È servito. Ah, è già servito. E lei come? Io pure, è servito. Pure è servito. Vici. Servitissima. Servitissima. Guardatevi le buone. Un asso, mamma. Un asso. Un asso. Va bene. Va bene, grazie, ok. Va bene, ci siamo. Allora ci siamo tutti. Sì? Come faremo a dichiarare? Allora, dichiarate. Posso? Scala! Niente! A me non mi fa niente. Full! Di cappa! Colore? Io vado a sedere tutti i poker. Darsi... Qua. Ma... 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 Ma chi poker è poker? Ma quale poker è poker, signorina? Ma... 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 E' un gioco cutto... E rumen... Arrivederci, signorina! E faceste cose serie... E' una notta tanto... Arrivederci. Ma... 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 Lo sai con il cucciolaio, è vero? Lo sai con il cucciolaio, è vero? Ho capisci, davvero? La stimaazze! Non ho poche di stimaazze! Chi tu me la fredesce quando c'è stato l'infiamma? Ah, che c'è il pasto! Fredesce? Fredesce? Ehi, cavalli figlia! La stimaazze! La stimaazze! La stimaazze! La stimaazze! La stimaazze! Ma com'è lei? Come sta? Come sta, signorina? Io sto sentendo, ha fatto bene a vedere! Ah, io malvito! Ci attacca, diciamo! Ci sta capitando? Ma lei come si sente? Come si sente? Come si sente, signora? Ogni tanto c'è specie, c'è... Lei come si sente, lei, signora? Lei come si sente? Io c'ho giuduriettessa! Ah, giuduriettessa, ma qui? Dio mio, signora! Lei non aveva manco l'idea, signora! Io ho un chiovo fisso, signora! Un chiovo! Taccassero qua! E nascendo ancora la mattina sera, signora! Di sera a mattina, la mattina sera, di sera a mattina! Ma lei come si sente, signora? Come si sente? Ci sta dicendo che mi attacca pure nell'occhio! Sì, signora! Ma con chi si moltiplica, signora? Vuole mettere il suo dolore di testa col mio dolore di testa? Signora, se pensassi che mi erissero che a mangiare sempre pisci pisci pisci, che contiene bosporo, no? Un bosporo, sì! Per l'intelligenza, per l'intelligenza! Quanta intelligenza, signora! Una cosa tanta, l'intelligenza! Ma Dududur è sempre attaccato qua, qua, qua! E lei come sta, signora? Come si sente, lei? Ci vuol dire che... E le malattie che c'è io per chi... Sì, signora! Ma con chi si divido il dolore di testa mio? Anzi, signora, quanto me ne vaio che hai un dolore di testa! Che ne posso un più! Tanti auguri, signora! Poma un conto! Arrivederci, signorina! Arrivederci! Ma che? This is the rhythm of the night! The night! Ma si metti a giubbè! Zai! The rhythm of the night! Trovate a capa! Trovate a capa! Trovate a capa! Ma chiamami... Dottore! Questa ti dicono che ci sono più male di me, ma... Ma che dicono? La carrozzella! Buongiorno, signora! Ho sentito tutti qua! Come stai, signora? Come stai? Lo sento bene! Ma signora, lei non facesse accusare! A me mi venne rovesciare però, signora... Tu rovescio proprio su e giù! No, ma guardi qua! Ma faccio proprio... Io ho proprio i fitness, fitness! Ho il fitness! Signora... Qual è... A me mi viene rovesciare, signora? Ma c'ho proprio un dolore alla molla della bocca, dello stomaco, proprio sto rovestando, signore. Più la guardo e più mi lancio, signore. Ma io guardo veramente, poi le tette, diciamo, mi si screpentano, diciamo, e si angucciano con tutto il cordone ombligato, si sta tutto un bastagnano, dicevo che... Dio, sei un dolore! Sente sempre, io diciamo che c'ho un malessere, diciamo, e tutto il tavolopetto era mai diventato, diciamo, tutta screpentata, rimane i ciumi, diciamo, perché... perché questo piccino mi sta succando tutto, no? Non mi viene a rovesciare, signore, tu rovescio fa' su e' giù, su e' giù, signore! Oh, oh, oh! Eh, 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 eh. Siamo nei guai! Siamo nei guai! Siamo nei guai! Sciopolo dei medici, dei paramedici, e dei para... Infermeri! ...e dei para- Il parazzenga! Eh, come lo fai? Sì, sì, non ci lasciamo prendere dal... Da che? Da... Non ci lasciamo prendere, eh! Lupane! Rupane! Al prosciutto! No! Lo devi mangiare! Ma c'è una cosa! Facciamo un consulto medico! Facciamo un consulto! Facciamo un consulto! Facciamo la dilatazione! Sì! Sì! Romero, Romero, Romero! Sì! 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 Tu! Tu! Tuo padre! Nel mio padre! Tuo, nonna e tua sua! Sì! Facciamo un consulto medico! Lo fanno decisioni di questa miniatura! Tu non mi si fai mai! No! No! Come sto facendo? Non mi si fai mai! Mi si fai mai! Mi si fai mai! Cos'è volerci! Cioè, se avete... Molise! No! Chies! Andate! Mi si fai mai scattare la chiesa! È scattare! Ma, dai, dai! Secondo me, Zahiri... Romero, non è più verdi! Ma che c'è niente? Sono tornato! Ma mi chiunque mi ha rispondito? Isaina! Pantelli! Abbiamo deciso! Tu hai i roghi! I roghi? Ma che te ne c'è? Interrompere!